Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva, in questo martedì 24 maggio, rassegna stampa che ovviamente si occuperà in lungo e in largo di Udinese, ma c'è anche da parlare di nazionale e sono tra l'altro due tematiche che si incroceranno, vediamo con quale protagonista, ma apre il Messaggero Veneto con cui noi apriamo la nostra analisi dei giornali sportivi con un'intervista esclusiva con Gino Pozzo dopo la cessione del Granada. Questa è anche la notizia che ha un po' se vogliamo sconquassato il mondo Udinese, in positivo perché arriverà un ottimo tesoretto, una notizia che magari in pochi ci si aspettava, dote dalla Spagna, ci dice il Messaggero Veneto e l'Arabia e Fulquier sono dell'Udinese, questa è l'indiscrezione di mercato rilanciata proprio dallo stesso Gino Pozzo, sotto controllo si dice due protagonisti della temporada del Granada e troveremo un'altra soluzione per tesserare i sudamericani, perché ovviamente c'erano delle agevolazioni per così dire sull'acquisto dei sudamericani tramite il Granada, ma non è assolutamente preoccupato Gino Pozzo che spiega al Messaggero Veneto, qui lo vediamo proprio nella foto, Gino Pozzo con il motto per Granada, Luciar Paraganar, insomma lottare per vincere della formazione biancorossa, Gino Pozzo spiega i riflessi friulani dell'affare con i cinesi che ha portato alla vendita del club andaluso, sulla base di una cifra che si aggira sui 37 milioni, l'intervista di Pietro Leotto, quando ti accorgi che c'è una differenza di vedute sugli obiettivi, sul modo di fare calcio, è giusto passare la mano, cedere a chi ha più risorse può cercare di soddisfare certe aspettative, Gino Pozzo racconta di getto le motivazioni che hanno portato alla cessione del Granada, è stata ufficializzata ieri sera dopo la stretta di mano di sabato con i cinesi di The Ports che hanno traghettato la Link International Sports Limited alla proprietà del club andaluso che adesso si avvarrà della collaborazione della Media Biz Sports, la società di Pere Guardiola, fratello di Pep, procuratore che ha una scuderia di giocatori e allenatori, niente male, da Suarez a Iniesta, una girandola di nomi e una sola indiscrezione praticamente certa sull'entità dell'affare, dicevamo 37 milioni di euro in cambio, la domanda che forse più interessa ai tifosi bianconeri la pone immediatamente Oleotto, cosa cambia, quali saranno i riflessi di questa cessione sull'Udinese, nessun particolare problema, la gestione della realtà sportiva era legata ma profondamente indipendente, ora troveremo una soluzione per tesserare gli extracomunitari che in passato venivano girati al Granada visto che in Italia c'è un tetto, stagione per stagione, quindi non ci saranno problemi di sorta sotto questo punto di vista, torneremo a brevissimo sulle parole di Gino Pozzo perché se l'Udinese non deve preoccuparsi a Granada un po' di preoccupazione c'è, in Andalusia tremano, un vero terremoto, questi sono i riflessi della scelta da parte appunto di Gino Pozzo, i media spagnoli riportano i dettagli dell'operazione e azzardano poi in panchina San Paoli, un vero e proprio terremoto, così è stato definito il passaggio del Granada da Casa Pozzo all'Ink International Sports Limited come dicevamo prima, perché appunto è stata qualcosa di inaspettato, un affare concretizzato poi nel pomeriggio di ieri e che ha fatto passare di mano il club Andalusso che aveva appena ottenuto una faticosa salvezza e adesso si ritroverà con un nuovo proprietario. Le tappe spagnole 2009, la famiglia Pozzo acquista il pacchetto di maggioranza del Granada, che è milita della terza serie spagnola, nel 2011 la squadra granadina centra la promozione in primera, 35 anni dall'ultima apparizione, nel 2016 la cessione ai cinesi, un affare da 37 milioni, tornando alle parole di Gino Pozzo, troviamo sull'argomento Vague e Samir, non cambia nulla, saranno tutti e due bianconeri, visto che il brasiliano è stato prestato al Verona per farlo giocare qui, Samir che tra l'altro fu protagonista anche di una vittoria della Sverona sul Bologna, una vittoria che poteva significare davvero molto per la Sverona, ha giocato purtroppo poco, Samir ma è già etichettato per così dire come possibile, erede di Danilo saprà fare sicuramente molto bene e poi una frenata su Zielinski che molti già danno in partenza, ho letto tante cose sul polacco, ma la verità è che nessuna offerta concreta è stata avanzata al momento, neppure dal Liverpool, perché viene citato il Liverpool, perché ovviamente lo stesso Piotr Zielinski, non diciamo spesso ma quasi, almeno in due o tre circostanze, ha fatto proprio citazione di un suo possibile colloquio con Jurgen Klopp che lo vorrebbe proprio a Danfield Road, vedremo insomma come si svilupperà questa situazione e qui ci sono le foto per chi non li conoscesse bene. E l'Arabi, il numero 9, molto molto forte, è una dote di gol importantissima che sbarcherà a Udine, e il francese Fulquier, giovane tornante che può fare entrambe le fasce con particolare successo, vedremo questi due volti nuovi proprio nell'Udinese per il Marocchino, 15 gol realizzati nell'ultima Liga, Youssef e l'Arabi, ecco i due giocatori che dal Granada potrebbero arrivare a Udine, dicevamo appunto Youssef e l'Arabi e Dimitri Fulquier che sono due giocatori molto molto importanti che si aggiungono al tunisino di passaporto belgham di Arbaoui, già all'Udinese, a tutti gli effetti, Fulquier classe 93, quindi alto 1,83 m, origini guadalupensi e così via, è un, come abbiamo detto, tornante dalle ottime qualità e poi c'è Youssef e l'Arabi, nato nell'87 a Kenny in Francia, ha 29 anni, 1,83 m anche lui, marocchino, ha vestito la maglia del Marocco 34 volte segnando 12 gol, è una punta centrale, è il classico numero 9, è sempre stato uno dei migliori marcatori del Granada nel corso degli ultimi anni. Questo per quanto riguarda il mercato, mercato che impazza anche nella possibile scelta del nuovo direttore sportivo, c'è chi giura non solo Osti o Pradè, quindi non Corsa 2, perché a Verona sono sicuri, occhio c'è anche Bigon Junior dall'estremo ovest, Genova all'estremo est, Udine, passando per il centro della pianura padana, Bologna, e su questo asse che si piazzeranno nelle prossime settimane i direttori sportivi liberi sul mercato, la voce principale è quella che porterebbe a Carlo Osti, ma occhio a Daniele Pradè, che sembra da alcune indiscrezioni che sono state riportate dagli organi sportivi abbia avuto già un qualche contatto con la società bianconera, anche se non ufficialmente riconosciuto, e poi c'è anche il terzo che prova ad approfittarne, Bigon Junior. Ancora mercato che riguarda le altre squadre, Matassa Pjanic se parte, Witzelhoff e Leini alla Roma, quindi un altro innesto belga dopo Rajana Ingolana. La Juve sul Bosniaco, dal Paris Saint-Germain 60 milioni al Napoli di Higuain, ma ricordate la clausola è di 94,7 milioni, quindi probabilmente il Napoli dopo i 36 gol in Serie A di Higuain, vorrà la copertura massima proprio di quella che sarà l'offerta, la clausola di 94,7 milioni. Continuiamo a sfogliare il Messaggero Veneto per la partita che manderemo in onda questa sera, con Flaibano e Manzanese che giungono all'ora X, eccellenza, stasera play-out, gara secca contro Italia San Marco e San Vitesse rispettivamente, ovviamente, mentre la Virtus Corno del nostro amico Simone Motta, salva grazie alla Triestina, abbiamo analizzato ieri tutti i riflessi di questi verdetti che sono arrivati in eccellenza, oggi ci sono partite particolarmente delicate, noi trasmetteremo Manzanese e San Vitesse, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del calcio dilettantistico, perché si deciderà molto del prossimo quadro dei campionati relativi alla regione del Friuli Venezia Giulia, si deciderà molto da domenica 29 maggio per la sorte per questa vittoria del campionato agognata e sognata dal GSA, ha parlato Vanuzzo che ha detto semplicemente vincerà chi gioca meglio, una frase semplice ma un concetto stringente che lascia pochi dubbi, il giocatore ex Sassari, capitano della GSA, parla della finale con Bergamo, fattore campo relativo, ci sarà pressione su entrambi i fronti, anche se è pur vero che deve assolutamente la GSA far valere il fattore campo che potrà sì dire qualcosa di molto importante, leggiamo il pezzo a cura di Simone Firmani, la Pugsa ricomincia oggi ad allenarsi in vista della prima gara di finale di playoff da giocare domenica al Benedetti contro la Comarc Bergamo, si tratta dell'avversario più ostico che Udine ha incontrato in questi due anni, anche se a fine della stagione regolare 2015-2016 era arrivato solo terzo dietro Orzinuovi, poi però battuta 3-1 nella semifinale, in molti insomma nello scorrere del campionato hanno pensato a una finale che potesse essere proprio tra la GSA e Gaga Orzinuovi, così non è stato, sorpresa Bergamo, ma sorpresa, fino a un certo punto la GSA sa che non può fidarsi di questo avversario e quindi dovrà dare il massimo impegno a partire da domenica 29 maggio, altra nostra grande esclusiva che seguiremo proprio passo dopo passo in questa serie che speriamo possa portare alla vittoria del campionato da parte della GSA. Andiamo a vedere ancora adesso sul gazzettino le tematiche di casa bianconera con la svalutazione bianconera, questo purtroppo è il dato sottolineato dal gazzettino, molti giocatori hanno depauperato il loro valore dopo una stagione di molte ombre, soltanto Badu, pensate, vale il doppio al momento sul mercato, i numeri portati da Guido Gomirato parlano di una brutta stagione che ha prodotto un significativo depreciamento dell'organico, dimezzato, tra virgolette, anche i carnezis nonostante abbia ricevuto il premio dei tifosi come insomma miglior giocatore della stagione, comunque sul mercato non c'è più quella valutazione, vediamo anche l'attacco del pezzo di Guido Gomirato, l'annata stonata che sta per concludersi anche se l'obiettivo minimo massimo rappresentato dalla salvezza è stato raggiunto, seppur a fatica, inevitabilmente ha le sue ripercussioni sul capitale dei giocatori, nel senso che contrariamente a quanto era sempre accaduto negli ultimi vent'anni il valore della rosa non solo non è lievitato ma ha subito un depreciamento e sarà anche difficile cedere alcuni giocatori a cifre importanti, fatta eccezione, come leggevamo nel titolo, del valore di Badu, qui insomma si parla anche un po' poi di valori individuali con la rosa dell'Udinese che ai tempi di Guido Rinne veniva stimata a 200 milioni, il solo Sanchez era stato ceduto per 35, ora si aggira sugli 80 con molti giocatori che hanno un po' diminuito la loro quotazione e adesso sta ovviamente, come si vede nella foto, a Beppe Iachini cercare di rivalorizzare questa rosa, non sarà semplice, dobbiamo vedere anche poi quali saranno i giocatori che arriveranno a Darmanforte proprio alla causa bianconera, alcuni li abbiamo citati e sono stati quasi, non diciamo ufficializzati, ma rilanciati dallo stesso Gino Pozzo come El Arabi e Fulchier che arriveranno dal Granada perché ovviamente la cessione, così dice il gazzettino, porta il tesoretto oltre a questi giocatori che potranno dare, come abbiamo detto, Manforte all'Udinese, la cessione porta il tesoretto, Zapata, tra l'altro occhio però, perché torna nel mirino del Napoli, Zilinski in stallo ed effettivamente questa è una riflessione che viene in maniera logica, in maniera conseguenziale, con l'arrivo di Arbawi e di El Arabi che sono due classici numeri nove, anche una buona dote di gol, il dubbio, il punto interrogativo su Duan Zapata sorge spontaneo perché effettivamente, ricordiamo, c'è un prestito biennale ma il Napoli ha sempre la possibilità, come ha detto il direttore sportivo Giaretta, è stata lasciata una porta aperta a Aurelio De Laurentiis, se il Napoli volesse riportarlo all'ombra del Vesuvio, ha la possibilità di farlo, leggiamo il pezzo, con le conferme ufficiali dopo le anticipazioni, ieri pomeriggio la società Media Base Sports, è il gruppo che di fatto controllerà il Granada, ha emesso un comunicato in cui viene sancita la vendita del club andaluso, un affare da 37 milioni di euro, così come riportato anche un po' da tutti gli organi di stampa nella giornata di ieri, un'indiscrezione poi confermata con molti volti nuovi che hanno buone probabilità di arrivare a Udine, come il brasiliano Samir in prestito al Verona, un giocatore che assolutamente sarà un prospetto notevole, Fulquier come anche Biraghi, anche se la corsia è diversa, non è del Granada, bensì dell'Inter, che lo aveva girato in prestito in Spagna, poi ovviamente anche tutte le altre alternative, tutte le altre trattative di mercato, con anche l'affare Zielinski in stallo, attenzione a Versalico che dovrebbe aggregarsi al Napoli, e anche qui viene rilanciata la possibilità di vedere un Duvan Zapata con l'interesse forte del Sassuolo, che in caso di trattative serrate con il Napoli, potrebbe sicuramente cercare di chiedere un attaccante che aveva corteggiato a lungo già tempo fa. Una notizia che ieri ci è piaciuta assolutamente tanto, è la notizia più bella ricevuta, la cerchiamo di azzurro, perché così è, Conte chiama Meret. In azzurro la stagione al Via il 13 agosto, una soddisfazione tutta friulana a fine campionato, Alex Meret in nazionale, poi però bisogna tornare con i piedi per terra, perché la pre-convocazione firmata dal Citi Azzurro Antonio Conte non porterà il giovane portiere udinese all'Europeo di Francia, si tratterà solo di un supporto chiesto dal futuro allenatore del Chelsea per rimporpare il reparto degli estremi difensori in vista del taglio, perché ieri è stata fatta la lista dei 30 giocatori, Meret è il 31esimo per estrema chiarezza, come abbiamo fatto anche nella giornata di ieri, in caso di infortunio di uno dei tre portieri, non è Alex Meret che andrà all'Europeo, verrà probabilmente richiamato sportiello o Milante, però è un riconoscimento eccezionale, che è meritatissimo da parte di Alex Meret, che si gode questo momento, già in viaggio praticamente, era ieri in quel di Roma, andrà a Coverciano, entro mezzogiorno la convocazione, e poi questa bellissima esperienza, non la prima, e siamo certi non sarà nemmeno l'ultima, a Coverciano, ci spostiamo adesso anche sulle operazioni di ripescaggio, anche qui parliamo di dilettanti, con la serie di rossoneri operazioni di ripescaggio, Mazzon faremo sicuramente la domanda, abbiamo 100 anni di storia da tutelare, per quanto riguarda ovviamente la retrocessione del Fontana Fredda, il presidente Bertolini, mettiamo un po' di ottimismo, ma i tempi sono lunghi, e questa adesso la speranza per la formazione rossonera, speranza forse ancora più flebile, per il Pordenone, che è stato letteralmente, ai noi, asfaltato dal Pisa, ma l'Ovisa, il presidente del Pordenone, ha detto a chiare lettere, non si molla, sciarpa rubata, ai tifosi, tre sbelle per svegliarci, per uscire dal mondo dei sogni, dice Dario Perosa, realizzare quale sia la differenza fra una meravigliosa sorpresa e una consolidata realtà, le rifilate domenica pomeriggio Ignacio Lores Varela, l'Uruguaggio è stato l'esecutore, alle sue spalle i mandanti, una squadra attrezzata, una società ambiziosa, 12.000 tifosi, una città di grande storia e tradizioni, effettivamente abbiamo visto anche i riflessi firmati nella giornata di ieri, della gara tra Pisa e Pordenone, l'Arena Garibaldi era davvero strepitosa, senza nulla togliere allo spettacolo del Bottecchia, ma si vede che sono palcoscenici, che hanno anche calcato i maggiori campionati, la Serie A è effettivamente una squadra che ha fatto valere tanta spinta, tanta voglia, tanta esperienza, sempre il presidente, Loviso ha detto, ci è mancata la cattiveria, adesso serve semplicemente un altro spirito, questo è il monito da parte di Loviso, però, ripetiamo, ci vuole quello che può essere considerato a tutti gli effetti un miracolo sportivo, perché il 3-0 del Pisa è davvero difficilissimo da ribaltare, sebbene i supporter siano ancora positivi, la speranza c'è ancora, vedrete che sarà festa verde-nera, brividi all'Arena Garibaldi, ricordando Bergrin, questo è appunto quello che rimane della giornata di domenica, voglia di rimonta, che rimane assolutamente intatta di Pordenone, parla anche il messaggero veneto, nell'edizione proprio pordenonese, ci spostiamo proprio su queste pagine, anche qui c'è una spinta, un monito a ripartire, perché non è finita, Pordenone riparti da qui, i motivi per cui crederci, sinora sovvertiti tutti i pronostici, poi otto vittorie ottenute, con almeno tre gol, il Pisa è sotto pressione, anche se, lo ripetiamo ancora una volta, non sarà assolutamente facile, ma bisogna mantenere i piedi ben saldi per terra, perché l'impresa è possibile, ma non è facile, e perché il Pisa ha quel tridente lì davanti di giocatori, che, quanto meno, se non da Serie A, sono da cadetteria, come l'esperto Mannini, lo stesso Varela, grande talento pescato dal Palermo, ma anche l'albanese Ciani, che ha fatto una partita davvero incredibile, qui la locandina del Tirreno, esposta ieri fuori dalle edicole di Pisa, con un tre nero-azzurro, abbastanza eloquente, adesso si va a Pordenone, applausi ne facciamo tantissimi, ai tifosi nero-verdi, ai ramarri, che sono arrivati a Pisa, guardate quanti, una bellissima coreografia, e poi ci si aggrappa allo spirito del gruppo, che potrebbe dare il via alla rimonta, sono questi appunto gli appigli, su cui deve poggiare il Pordenone, anticipiamo anche una notizia della stampa nazionale, calcio e camorra, c'è l'ex Peccarisi tra gli indagati, notizie che, come al solito, sarà un cliché, ma lo ripetiamo, fanno malissimo al calcio, di queste partite truccate, nella stagione 2013-2014, per quanto riguarda l'Avellino, un incrocio di camorra e calcio scommesse, che fa raggelare nelle sue intercettazioni, vedremo come si evolverà questa storia, tornando invece alle questioni che ci piacciono di più, quelle di campo, lo visa è sicuro, come abbiamo letto prima, domenica sarà un'altra storia, il Presidente non si rassegna, annuncia battaglia, e soprattutto blindatelino, il nostro allenatore non si tocca, comunque vada a finire, non ci saranno problemi, per la conferma, qualora lo volesse, di Bruno Tedino, poi equilibri delicati, c'è la foto di Gennaro Gattuso, tecnico del Pisa, in Razzurri, devono approdare in finale, la piazza vuole la Serie B a tutti i costi, mentre i neroverdi, non hanno nulla da perdere, poi c'è Ingegneri che forse rientra, il forte difensore centrale, in settimana lavorerà per tornare a disposizione di Tedino Domenica, come Cattaneo e Filippini, quindi vedremo se ci saranno questi possibili rientri, a rinforzare il Pordenone, al momento le favorite per la finale playoff sarebbero proprio Pisa e Foggia, una sfida che rievoca il calcio di qualche tempo fa, per i nostalgici degli anni 90, anche se i tifosi del Pordenone, sperano che non ne rimonta, così come lo sperano i tifosi del Lecce, ed eccola qua la prima pagina della Gazzetta, che ripetiamo non ci piace affatto, Gomorra in campo, la Serie B truccata dalla malavita, 10 arresti per due partite dell'Avellino, combinate nel 2013-2014, per i PM, Izzo e altri due ex biancoverdi, Millesi e Pini, erano gestiti dai boss per influenzare i risultati, sui quali scommettere il difensore Genoano, ha detto io non centro niente, ma adesso è assolutamente tutto da dimostrarlo, anche in un momento non particolarmente esaltante, per Izzo che comunque non parteciperà all'europeo, per quanto riguarda proprio la competizione 2016 in Francia. Andiamo in spalla, parlando di Focus Mercato, la fiera dei sogni, top 10 d'Italia e d'Europa, finiti i campionati, si accendono le trattative, Real su Courtois, niente sconti per la clausola di Higuain, il Chelsea che rilancia per Nainggolan, come abbiamo detto prima, Napoli che assolutamente non ci sente da quell'orecchio, per abbassare la quotazione di Higuain, ma fa bene. Milan-Liverpool, oppure una suggestione, Crotone-Abalotelli, vieni da noi a fare il capitano, il presidente Vrenna, il presidente Crotone ha detto da noi farebbe 25 gol, e poi le altre trattative, Versalico-Lapadula e duello Juve-Napoli, la sfida si replica per Lukaku, i conti dei campionati, però sono assolutamente poco lusinghieri per l'Italia, perché la Serie A è in coda, rispetto a tutti gli altri campionati europei. Torneremo poi anche con il Corriere su questa notizia, Valzer degli allenatori, Prandelli e Lazio, la firma è vicina, mentre il Genoa vira su Juric, eccola qua, tra l'altro intersechiamo le due cose, con la notizia che nel Corriere dello Sport, ovviamente arriva in prima pagina, Prandelli alla Lazio, l'ex CT che riapre il Valzer delle panchine, Roma vertice decisivo con Lotito, raggiunta l'intesa, Fumata Bianca ormai a un passo, contratto di due stagioni, con ovviamente c'è chi spera la finestra nel ribaltone, ma pare che sia assolutamente Prandelli, il prossimo tecnico bianco celeste, dopo il periodo di Inzaghi traghettatore, e quindi questo sarebbe in caso il nuovo tecnico bianco celeste, una Lazio che è a cerca di allenatore, così come lo sono tante altre squadre, diceva la Gazzetta del Genoa, che è piombato su Juric, la naturale evoluzione di Gasperini, che lascia nelle mani di quello che è il suo allievo, effettivamente proprio Juric, che è stato promosso con il suo crotone in Serie A, poi a proposito di Serie A, manca ancora uno slot, il ventesimo posto per il prossimo campionato, e scatta la corsa alla, iniziano i play-off con Cesena Spezia, questa è la partita, poi ci sarà Bari-Novara, le vincenti si incroceranno con Trapani e Pescara, quindi ancora molto molto lungo la questione per quanto riguarda la conquista della Serie A, altre notizie da non perdere, nuoto, Paltrinieri simbolo della Giovane Italia, a Rio, oro con Primato, questa è la promessa di Paltrinieri, poi Basket, Milano sprofonda, Green e Tonut, Super, adesso Venezia è 2 a 1, una Milano che fa fatica a ritrovarsi, in taglio basso abbiamo notizie della moto, Iannone al Mugello a 354,9 km orari, è il record di velocità, viene chiamato ironicamente Frecciarossa con riferimenti ai treni, proprio di alta velocità, poi il giro, Nibali ci crede, le imprese nascono sempre dalle sconfitte, non molla lo squalo, la presa sul giro e fa bene ovviamente a crederci fino in fondo, in spalla a destra ancora notizie di Nazionale, i 30 di Conte ci sono, ed è fuori in maniera un po' sorprendente Pavoletti, Ogbon e Quasisi salgono le quotazioni di Giorginio, da oggi selezionati a Coverciano, fra 7 giorni di 23 per l'Europeo, in un show televisivo come senza precedenti, e Sharawi in signe decisivo in ritiro, intanto slitta l'incontro, Ventura FIGC, Ventura che dovrebbe essere il prossimo commissario tecnico, noi aggiungiamo anche la notizia ovviamente, che ci interessa più da vicino, la convocazione di Meretta aggregato, al gruppo dei 30, l'intervista a Tiago Motta, io, la Nazionale, Murigno e Verratti, racconto tutto, sull'infortunio di Marco Verratti, dice semplicemente, andava gestito meglio, e sicuramente Verratti avrebbe fatto, più che comodo ad Antonio Conte, poi il messaggio di Abbiati, all'addio, Milan se vuoi, ti metto in riga io, vedremo poi, sotto quale veste, vorrà farlo Abbiati, anche se insomma, non è facile mettere in riga questo Milan, andiamo ad approfondire giusto proprio la notizia, perché ci ha un po' sconvolto di questa Serie B truccata, dalla Camorra, i soldi dei boss sull'Avellino, 10 arresti pensate, e indagato, Armando Izzo, qui nella foto c'è proprio un'immagine di Modena-Avellino, del maggio 2014, partita truccata, finita 1-0 per il Modena, c'è nel Milino anche un'Avellino-Regina 3-0, con una telefonata in cui si parla di mangiare tre polpette, a riferimento dei gol, che devono essere fatti proprio dall'Avellino, e poi ci sono Izzo, nell'immagine di sopra, e Francesco Millesi, che militava nell'Avellino, i due giocatori che, secondo la procura, erano proprio nelle mani della Camorra, per falsare queste partite, eccolo qua proprio la specifica, combinate queste due partite, per il PM, il Genoano, e gli altri ex Biancoverdi, Millesi e Pini, erano gestiti dalla malavita, per influenzare i risultati, su cui scommettere, le parole del presidente dell'Avellino-Taccone, l'Avellino è parte l'ESA, e sarà rispettosa delle indagini, ha parlato a Bodi, presidente della Lega B, fatti gravi, grazie a DDA e Procura, noi collaboriamo ancora, altre parole, con Filippo Beatrice, procuratore aggiunto, alcuni calciatori hanno relazioni, siamo soltanto all'inizio, come spesso accade in queste indagini di calcio scommesse, si inizia a scavare in superficie, poi purtroppo si arriva anche nel profondo, il retroscena, la parabola di Millesi, scomparso di notte dopo il no del compagno, l'ex capitano avrebbe nascosto i soldi sotto il materasso e saltò l'ultima gara, insomma come detto, poi cominciano ad emergere fatti più o meno inquietanti, proprio di una situazione particolarmente grave, che troverà sicuramente riscontri nel prossimo futuro, noi però siamo arrivati in chiusura, con il nostro appuntamento con la rassegna stampa sportiva, a me non resta che augurarvi buona giornata, con la nostra, come al solito, ricchissima programmazione, lasciare la linea alla terza parte di Buongiorno a Friuli.